Musica Ma sono l'ora che mi tocca! Sì, subito, subito! Vogliamo cantare figlioli? Sì! Noi vogliamo! Pasqua! Pasqua Zaccarino! Un figlio di Riccardo! Non ho afferrato, scusate! Pasqua, un figlio di Riccardo! Chi ha dato la licenza di noi? Pasqua, ti ricordi? Ti ricordi di me quando ero un uagnone con un pallone? Ho seminario! Mi sono fatto fare tutte le spalle, ciutti, ciutti! Bello, Pasqua! Sì, rimasta qui, non dico che non sia bello! Tu, tu, tu! Non capite, sono buono! Pasqua, mi ero nemmeno! Siamo uguali! Che vieni, dopo? Non c'è un uagnone con un pallone! E te! Sei un uagnone, un uagnone! Mi ha scolto! E ti ricordi di essere un uagnone! Tu ti ricordi di essere un uagnone! Un uagnone! Un uagnone! Bello! Ma è possibile che il romone... Ma non c'è... Ah! Adesso mi ricordo! Beppino! Beppino! Oh, che disgrazie! Mannaggia! Io non l'avevo conosciuto! Ho visto che vedete la schiavola! Non l'avevo carciere! È l'affetto! È l'affetto! Ma non è che... ...se abbiamo preso la riassu... ...se abbiamo preso la riassu... ...se abbiamo preso la mano! ...se abbiamo preso la mano! Sì, sforza! Quando è bello! Bene, veramente! Sui mi piacere, veramente! Sce la mi serva! Eh? Padre, stiamo assurando voi! Che stai, il pallegrinaggio? Sì! Tu me lo dici a Roma! Raffaele che mi chiami, devo raggiungere il gruppo! Ciao! Ciao Pasquale! Quanto è il costo? Auguri eh! Grazie! Tante bui Pasquale! Stai calmo, sì! Ho trovato un amico di infanzia! Errore maledetto! Che cazzo lo conosce? Pronto? Allo, collocamento! Ah, sei tu! Dimmi, dove stai? Eh, è già finito eh! Senti, per il lavoro ho già sistemato tutto, sì! Sì, è un posto fisso come il quadri a caccia comunale! Eh! Devi comprare un libro di ornitologia! No, di ornitologia! È un libro sui uccelli! E non fate il volgare! Ti preoccupare che ci penso io! Domani mattina devi andare dall'esame al comune! Sì, domani mattina! Vabbè! Ciao eh! Ciao! Buongiorno! Mi scusi, ho preferito mischiare, diciamo un po' di calcio e un po' di pesca! Non sapevo bene! Caccia normale, caccia piccola, caccia grossa, caccia l'elefante! C'è l'Aquila, visto? 8 milioni di fogliette! Vinceremo! Non faccia lo spiritoso e si secca! Sì! Mi manda mio cugino Gaetano! Chi? Mio cugino Gaetano! Non conosco nessun Gaetano! Ma scusi, lei non è la signora Branzoletti? No! Io sostituisco la signora Branzoletti! Vabbè, ma... Lo stesso! È odio! I raccomandati! Dunque, secondo le nuove disposizioni di legge, per esercitare come guardia caccia lei deve rispondere ad alcuni brevi quiz di ornitologia per valutare la sua conoscenza sulla fauna da salvare! Sì, insomma, roba... A 10 secondi per dirmi a quale specie, sottospecie, famiglia, appartiene questo esemplare e come si chiama! Stia fermo con le mani! E risponda! Ma scusi, io così vedo solo il culo dell'uccello! La coda! Prego! Ha uscito la coda, c'è! Non voglio aiutarla! Si tratta di uno stanziale! Ah, è stanziale! Ebbè, questo è importante! Dunque, stanziale vuol dire che un uccello che andando nella stanza... Eh, no! Nel corridoio, andando alla cucina, è un uccello domestico! Si sbrighi, prego! Oh, non mi puoi far vedere il becco? No! L'ala! No! Perché? Perché da le nostre parti ancora gli uccelli! No! Noi li vediamo tutti, no! Il becco, la coda... Le sue considerazioni sugli uccelli non sono pertinenti! Mi dica come si chiama! L'uccello del prete! Sì! Uccellus pretorum! Scherzoso! Che questo è l'uccello che è della sottospecie dei... Spidocchiamentus maialorum! Spidocchini maiali quando c'hanno grazie! Ah, sbagliato! Ho sbagliato! Si tratta di un Canaris Argenteus Italicus Telorentis! Ah, Telorentis! Dinus! Della famiglia dei migratori che vanno in America, poi vanno a Londra e poi vengono in Italia! Eh... No! Signora, sai, per cortesia! Signorina, prego! Signorina, scusi! Io ho famiglia, mi aiuto! Se mi stai facendo le domande mi scoppi la capa me! Io devo lavorare, sa? Eh! Io non capisco ste cose! Va bene! Le concederò un'ultima possibilità! Grazie! Questi due piccoli volatili sono della stessa specie, della stessa sottospecie ma di due famiglie differenti! In dieci secondi mi dica come si chiamano! Ma sempre di cu... di... Di coda, prego! C'è uno che c'è sotto coda in viammata, è rosso! Provate a mettere un po' d'un guendo, povera bestiola! Risponda! Un momento, scusi, non vedo! Sia fermo con i miei unchiari! Cinque secondi! Quattro secondi! Tre secondi! Ma cosa sta facendo? La cuffia, non sento molto! Due secondi! Secondi... Aspetta, aspetta! Questo è... Saltimbeccus alla Romanus! Il tempo sta per scadere! Ingrociatorus... Indotec... È scaduto il tempo! Bene, bene, bene! Bene, bene, bene! Tutto è bene quel che finisce bene e una meno lava! Ecco! Si accomodi, prego! Grazie tante! Lei è veramente gentile! Quanto mi daranno di stipendio, Rosario? Mi hanno promosso? Lei è bocciato! Come bocciato? Bocciato! Io ho famiglia, signora! Lei mi deve aiutare! Per quel che mi concerne, le può anche morire di fame! Ed ora... Prego! Un momento! Come si chiama lei? Avvisi che ci ha ripensato, ma promosso? No! Devo cancellare il suo nome dall'elenco! Come si chiama? Indovina un po'? C'è 10 secondi! Nome, cognome e codice fischiale! Il mio amore è tutto il mio affetto! No! Non lo voglio più! Non lo vuole più? No, signorina! Lei adesso si prende tutto! Tutto! Silenzio! Questo è corretto, questo è scorretto! Questo è l'humor, questo è l'utopia! Questo è dolce, questo è amaro! Questo è freddo, questo è caldissimo! E questo è offerto dalla ditta! Ma che fa? Toscano corretto alla panna! Uno e due! Che libidine! Mi deve credere! Ti affrevo che ci do una statuetta infronta e ci do, sa? Mi volevo dire! Mi deve credere! Alle volte... Alle volte mi viene la voglia proprio di dire... Stroppormono via con le mani! Addirittura! Sì, sì, sì! Sì, sì, sì! Uno strappo! Un ultimo guizzo di dolore! E poi la pace! Ma forse... Forse è meglio nel suo caso, stando che sta a fare... Il portiere, le cose, è meglio! Perché lei non è d'accordo? Io? No, per quanto riguarda me, lasci perdere che va bene tutto così! Già, lei parla così perché... Perché il suo non è ridotto come il mio! Se vedesse... Tutto arrossato... Lo vuol vedere? A chi? Ma la vogliamo finire con questa storia? Mi scusi tanto! E lo vuol vedere, lo vuol toccare, mi tocca il ginocchio! E basta! Va bene, capisco che le fa senso! Mi fa schifo proprio! E poi con un tipo come lei, non lo so, lei è tutto streno! Il figlio, il nonno, la moglie o la sua... No, per carità no, io mi rendo conto che... Insomma che... Io sono convinto che... ...se lei me lo toccasse... ...io perderei la testa proprio! E io questo l'avevo afferrato dall'inizio, caro signore! Lasci stare, stia a posto suo, sa! Ecco, è un po' d'educazione! Scusi, tocca e fa! Stia calmo! Ma che le tira? Che riesce, faccia gli affari suoi! Oh, chiariamo che noi qua siamo per due parrocchie diverse da quando ho capito! E allora lei stia a suo posto, io sto al mio! Su, venga qua, venga qua! Che sta a fare là in piedi? Venga qua! Facci stare, mi seguo qua! Ma no, ma perché fa così? Ma venga qua, si segue che facciamo due chiacchiere! Le dicevo, l'unica cosa che mi conforta... ...è l'idea che tra poco starò su quella bella poltrona! Perché lei fa tutto in poltrona? Perché lei no! Oddio, come sto convenendo io! Anche per terra, due anni di sofferenza! Eh, capisco! Però, sai, a un certo momento, siccome a me l'arcata va bene, la spinda pura... ...e pensavo che sul lettino era meglio! No, 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 ma comunque è una bella poltrona regolabile, angolabile! Ah, sì! E poi, e poi c'è quell'angelo! A titolare, eh? Sì! In confidenza! Io preferisco il marito! E questo l'avevo capito all'inizio! Comunque anche lei, insomma! S'arrangio! S'è brava! Bona, è buona! Ah, non dica queste volgarità! Ah, io dico le volgarità! Ma sì, andiamo, dice, è buona! Che vuole che mi interesse! L'unica cosa che interessa di quella donna sono le mani! Sì, tutto il resto! Le mani, quelle belle mani! Affusolati, riafari, traspareni, marmoni! Già Bologna! Ha presente? Già Bologna! Ma che cosa fa con queste mani di Bologna? A me, innanzitutto, mi fa una spruzzatina! Perché io c'ho una caverna, eh! È tutto marcio, tutto marcio! Lo vuole vedere? Ah, ricominciamo un'altra volta! Ho capito! Guardi, che lei sta esagerando! Lo vuole vedere, lo vuole toccare! Finiamola! No, no, no! Gli ho già detto in che parrocchia sono! D'accordo, l'ho capito che le fa schifo! No! Allora, ecco! Dopodiché, zac-tac! E basta! Ma come? Tutta questa preparazione, bella, le mani affusolate, giamburrasca... E poi zac-tac, come i conigli! Ma no, zac-tac, è l'iniezione! Iniezione? Sì, l'iniezione per non sentire! Come, l'iniezione lì? Sì, e dove la vuole fare? Per non sentire! Ma perché, scusi, lei vuole sentire! Ma scusi, ma lo che sono venuto a fare qua? Voglio sentire sì! Ah, ma lei non sa che cosa va incontro! Scusi, ma lei è un masochista! Ma per carità! Ah! Ho capito! Il suo è da vitalizzato! No, no, il mio è vitalizzato e come? E quindi lo vuole salvare o conservare? Certo, perché lei non lo vuole salvare? Eeeh, per carità! Lasci perdere! Sono tre anni, caro signore! Tre anni che ci provi in tutti i modi! Ma che... Niente! E allora a questo punto... Via, 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 via! Strappo! Strappo! Sentami! Se lo faccio togliere! Un'altra volta! Tanto che lo strappo lo stesso! Lo strappo a tutti! Ma se lo faccia strappare lei, mi scusi tanto! Che ce l'ha vitalizzato e ce l'ha a forma di caverna, pieno di pus, marce e fa pure schifo! Ha capito? Lei è quella puttana di sua moglie! Mia... mia moglie? Sì! Senta, lei... Lasci stare, non si muove con le mani, sa? Che sua moglie batte a Bologna, me l'ha detto lei stessa! Mentre lei va con i portieri e batte nei giardini con Giamburrasca! Ma... ma... io sono un ingegnere, sa! E' una famiglia schifosa! Che si porta anche quella povera creatura di otto anni qua dentro! Ma che schifo! Tocca a lei! No, no, grazie! Io sto bene così! Aspetto che mi casca nella vecchiaia! Strappatene a lui! Stando! Grazie a tutti!